Stato un grande maestro di politica, ha previsto il bipolarismo, voleva uno schieramento di centrodestra prima ancora che Berlusconi lo ha creato, lo immaginasse e lo rendesse vincente. Ha fatto scuola di politica a tanti di noi che se siamo ancora qui dopo molto tempo vuol dire che siamo stati dei buoni allievi. L'amarezza è che è morto troppo presto perché avrebbe sicuramente dato un contributo ancora importante alla politica, però così almeno si ricorda tutto ciò che è di buono, di positivo che ha fatto per modernizzare la destra, creare il bipolarismo e unire poi nell'era di Berlusconi esperienze diverse, riunì per la prima volta Miglio e Fisichella, ideologi della Lega e della destra, quando Lega e destra erano i ferricorti e ha unito cose anche lontane servirebbe sempre gente come lui, purtroppo ce ne sono pochi.